Musica Ciao a tutti fantasmini e benvenuti in questo nuovo gameplay In questa nuovissima avventura su Skyrim Anniversary Edition Come avete visto qui ho acquistato l'Anniversary Edition Quindi andiamo a scaricare Tec E' caricamento in condizioni di servizio e bla 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 Adesso metterò il mio account eccetera eccetera E ci vediamo subito alla 20 Adesso in questo momento sto scaricando tutte quante le cose che c'è in Creation Club A quanto pare bisogna scaricarle manualmente Quindi ci vorrà un po' di tempo per che io scarichi tutto quanto Mannaggia Potevano rendere la cosa un po' più interessante Ovvero che erano già tutte scaricate però Pazienza insomma Quindi sto qua a installare tutto quanto e poi cominciamo Ed eccoci qua di nuovo Dove avere inserito la password, le mail, le starcazze, le carazze e mazze Ogni volta c'è sempre un problema, ogni volta Comunque sono riuscito a entrare finalmente E che potete leggere sopra in alto alla mia destra Ma voi vedete a sinistra comunque è la destra Skyrim compie 10 anni per festeggiare Regaliamo a tutti i 4 creazioni Sante soluttore, realtà ricercate, modetta sopravvivenza e pesca Questo per la special edition ragazzi Quindi scaricate gratuitamente Se invece volete tutti quanti i pacchetti che ci sono Basta spendere 20 euro 19 euro e 99, 20 euro E fate un aggiornamento, un upgrade Alla vostra special edition Quindi io ho già fatto tutto quanto Quindi andiamo a fare una nuova avventura Ah il dova che c'è in me Non vede l'ora di urlare Bene andiamo Bethesda Game Studios Presente Scream Ehi tu Finalmente hai aperto gli occhi Stavi cercando di attraversare il confine vero? Eh già Anche noi siamo finiti dritti in quell'imboscata imperiale Proprio come Un grattimanto della tempesta Ma Skyrim andava tutto bene prima del vostro arrivo Nell'impero regnavano pace e tranquillità Se non ti stavano alle costole Avrei potuto rubare quel cavallo Ed essere già metà strada per Amertel Ehi tu Noi Non dovremmo essere qui L'impero vuole questi manto della tempesta Ormai siamo tutti fratelli e sorelle in cadere Silenzio là dietro E lui che problema ha? Tieni a freno la lingua Stai parlando di Ulfric manto della tempesta Il legittimo re di te Ulfric Lo Jarl di Winden Sei il capo della ribellione Se ti hanno catturato Dove ci stanno portando? Ah appunto Non so dove stiamo andando Ma Sovengard c'è pelle Non può essere vero Non può Ehi quadro di cavalli Quale villaggio progetti? Perché me lo chiedi? Gli ultimi pensieri di un nord Dovrebbero essere rivolti alla sua casa Rorikstad Io Io vengo da Rorikstad Generale Tullius Signore Il voi ha aspettato Bene Vediamo di concludere Mi fa pena sto poveraccio Poverino Guarda il governatore militare Il generale Tullius E a quanto pare I Talmor sono con lui E niente Si commettono che c'entrano qualcosa Questa è Elke Un tempo c'era una ragazza qui Che mi era molto cara Chissà se V-Lod fa ancora quelli rumene Dentro le banche di Cielo La ragazza Le mura e le torri imperiali Mi facevano sentire ansioso Eh Perché è arrivata l'ora Fine del percorso Ecco Tutti quanti i manti da tempesta Non è cortese fare attendere il niente No aspettate Non siamo ribelli Però lui è Pronta alla morte con coraggio Brigante Brigante Devi dirglielo Non eravamo con te Questo è un errore Guardate verso il secco Quando diciamo il vostro nome Uno alla volta L'infero adora Le sue stramaledette Ulfric Manto della tempesta Jarlow di Windhelm È stato un onore Jarlow Ulfric Rallof di Riverwood Lockheer di Rorick È lui No non sono un ribelle Non potete farmi questo Non voglio morire Arciari Alcun altro vuole discutere Porca troia Aspettate Ehi tu Vieni avanti Sì Chi sei Eh chi sono Sto cazzo sono Allora chi sono Chi sono Io in realtà ragazzi Ho intenzione Di creare un personaggio Mago Per la precisione Un fottutissimo Mago Del gelo Eh 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 Sto ancora pensando In realtà Perché Ho intenzione Di usare anche L'evocazione L'evocazione E la distruzione Però comunque sia Voglio fare un mago Quindi Nord per niente no Per niente no Kajiti 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 Sono curioso Perché Alla fine dei conti Un Kajiti Mi è sempre interessato Impersonarlo Non l'ho mai Personificato Perché Ho sempre Preferito Un elfo scuro Per le magie Anche perché Lui I Kajiti Sono molto più propensi Per la furtività Infatti c'è scritto Ladro eccellente Grazie alla furtività Tutti i Kajiti Possono vedere Nell'oscurità E sferrare Tagli attacchi Con i loro artigli Questo è interessante Per vedere Di notte Anche se in realtà C'è un potere Se non sbaglio Per vedere Di notte O comunque Si può Si può acquisire Un potere Per vedere Di notte Non mi ricordo Come si chiama Occhio di qualcosa Però questi qua Sono i primi talenti Che si hanno Ovviamente Però Non ve lo sto a spiegare Ragazzi Lo sapete più di me Io ho sempre preferito L'elfo scuro Anche perché L'elfo scuro Sono Si Abili Nelle Nelle furtività Ma anche Nelle arti magiche Hanno naturale resistenza Al fuoco E possono usare Colle dell'antenato Per circondarsi Di fiamme Io colle dell'antenato Non l'ho mai utilizzato Anche perché Il potere Di un giorno Non lo Non mi piace Molto utilizzarlo È inutile per me Però Però Per iniziare Non è male Non è male Però Sono curioso Di provare Questo kajiti Perché mi voglio Creare un kajiti Pensando che Agobi Chiama sempre Biciarruffato Ma fa ancora lui Quindi Facciamoci un kajiti Ti va Sono curioso Allora Razza Abbiamo scelto la razza Sesto ovviamente Maschio Modelli preimpostati Vi vedo un pochino Che cosa c'è Che cosa Oddio Figo Cazzarola Una Una lince Sembro Cazzarola Che figo Mi piace Allora Che bei modelli L'hanno Guarda l'altra Che figata ragazzi Sembra un tigrotto Facca Futtare Armicio Bello Che così Non è male No però Lo voglio Multicolore Dai Multicolore Ci sta Quindi Direi Que La creazione Di personaggi Sono un po' Lento Ragazzi Ma È normale Questo È sempre un pochino Eh lo farò Di questo colore Più o meno In memoria Del mio micio Maximo Però Maximo Era un pochino Più scuro Un pochino Più chiaro Più scuro E magari Prendo questo Colore E modifico Un pochino La barba Tonalità Di Tonalità Di colore Sì così Peso Così Va bene Poi Testa Carnagione Va bene Sporco Colore sporco Cicatrici Sì facciamo Facciamo un Kajiti Guerriero Cioè non Guerriero Che Ne ha subite Di cotte Di crude Insomma Nella sua vita Ecco Colore Pittura Guerra Va bene Così Volto Tipo di Naso Va bene Altezza Naso Non stiamo Di romperci Le palle Zigomo Dettaglio Volto Che cos'è Il suo Dettaglio Volto Ah il Dettaglio Il colore Colore Mento Colore Collo Va bene Occhi Forma Colore Occhi No Così No Max Li aveva Verdi Così 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 Non è male Sì Dai Non è male Trezzocchi Col Blablabla Ok Sopracciglia Bocca La forma Di bocca Va bene Dai Allora Capelli Allora Peli facciali Peli facciali Leviamo Si possono Levare Ah ok Così Ok Allora Vediamo un pochino Che cosa mettere Come peli facciali Dai Così Nel mare Capelli Eh Così potrebbe Potrebbe Dai Mi piace Mi piace Colore Colore Rossiccio Va bene Non mi dispiace Anche se magari ci fosse Se ci fosse Un colore un pochino Più chiaro Questo è marrone Un rossiccio così Forse era già così In realtà Va bene così Va bene così Dai Va bene così Ah confermare il nome Di personaggio Confermare il nome Di personaggio Ah confermare il nome Sì sì Ok Allora Maximo Ovviamente In onore del micio Del mio micio Che non c'è più Ciao Maximino Bene Accetta Sì devo dire Sono un micio Cattivo Oh bastarda Dentro Io in realtà Mi stavo leccando Il pelo Ma Comunque Sei una bastarda Perché io non ho fatto Un cazzo Io sono innocente Mi stavo leccando Il pelo Vabbè Mi sputerò le palle Di pelo in testa La prossima volta Della terpesta Qualcuno qui a Elgen Ti chiama eroe Ma un eroe Non usa un potere Come quello Della voce Per uccidere il suo re E usurparne il trono Tu hai scatenato Tu hai scatenato Le benedizioni Oh meno male Oh meno male Coraggio Non ho tutta la macchina Non ho tutta la macchina I miei antenati Mi sorridono benessi In imperiali Potete forse dire lo stesso Mmm Che male Giò male al colo di mio lol tanto morire qua morire là non è che cambia molto però che cazzo ti devo dire va bene almeno questo torcicollo mi passerà o almeno spero cosa vedete mica lo vedo io cazzo ma va comando via 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 ti vuoi le vai dal cazzo fammi entrare che le leggende siano bene le leggende non bruciano dobbiamo muoverci ora super la torre avanti con me super la torre oh cazzo comando mamma mia ragazzo c'è un alito che veramente mi ha ucciso cazzo lavati i denti va star di me va è già vero che c'ho le mani legate quindi mi tocca saltare eh ah interessante 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 va bene aaaah tacci che male è solo un gatto eh è solo un gatto eh vabbè via 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 qua non c'è niente da luttare via fla facca puttana eh si ok presto io devo trovare il generale Julius e unirmi alle forze di spesa e gli dei di qui di provato è interessante eh che debba stare vicino a te se non voglio vivere se voglio vivere incredibile resta vicino alla parete hopla eh vicino alla parete sto tranquilla dico che troia resto seguimi in atto stiamo schiaffando altra volta non ci fermerai bene l'entra fortezza con arlo a te o euro eh con chi vado con chi vado con chi vado io vado con loro poi ci vediamo io vado con quel della mano di bantepecchiati ma realtà no poi vedrò non ho ancora scelto in realtà soggia a mano mi piace più questa parte qua eh lo so eh sarebbe anche ora che mi liberassi che cazzo va bene allora abilità oggetti armi che si fa per buttare le cose lascia via fai da cazzo ti vali fai delle palle tac ok eh che no ok ragazzi devo ancora capire bene perché io io arrivo dalla console arrivo ho sempre giocato su console quindi devo capire bene un attimo ok ok è bloccato ci vuole la chiave la chiave maledizione da questo lato non sia e quando mai e quindi che si fa oh cazzo che cazzo è? ah qua si ti do una l'angherata in testa ma di quelle che ti fa proprio male proprio proprio male questa me la piglio io e questa me la piglio io e va a fa moca si eccola qua e queste me le prendo per la mia collezione grazie e grazie grazie e grazie e non c'è di che oh yes tranquilla amico tranquilla amico sta puttana qua ecco siamo costretti a andare di là eh ho notato prendete tutte le cose importanti e muoviamoci il drago starà dentro tutto a suono devo solo raccogliere qualche altra posizione porta all'impero questa è una mia piccola vendetta va bene? è andata a cacare va andata a cacare no che in realtà io io per precisazione non dovrei stare con l'im con la col fottutissimo tizio della mantra della tempesta perché sono un po' razzisti questi maledetti nord io sono un cazzo di gattino quindi allora prendi cura vino non mi interessa posso anche vendere in realtà uh oro ma si prendiamo ecco prendiamolo così poi lo vendo poi non c'è un cazzo qua questa portiamola via uh raccogli raccogli che non ci fa mai male raccogliere messo oh elf ok ok un po' di cibaria un po' di vino biachiamoci affamocco allora pozione ta 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 poi l'altro c'è essa non me frega una mica sacco non c'è un cazzo niente del pomodoro sì così pomodoro pomodoro a volontà qua c'è niente prendi prendi cesta non ci interessa un po' il coniglio mi sa questi cazzo di conigli qua quant'è che sono qua dentro cosa cos'è uovo uovo di pasta delle rocce non so ma cos'è commestibile sta roba penso di sì ma prendiamo anche il vino qua ho qualcosa da vendere prendiamo tutto così poi vendo al tizio primo tizio primo stronzo che vedo mi vendo sta roba ok qua non c'è niente qua non c'è niente boh ok possiamo andare dai andiamo si me la sono ragionata bene amico me la sono ragionata bene bene aha sei rimasto solo torturatore eh ragazza scusa non l'ho fatta apposta cappuccio del torturatore oh me garba me garba sai no dopo che è arrivato il dragon sono più no dopo che è arrivato il dragon sembra ci sia qualcosa è chiuso vedi se riesci ad aprirlo con qualche grimaldello però potrebbe servirci una volta in fuori prendi tutto quello che può essere utile e arriva assolutamente sì adesso mi imparo le magie perché io sono un medicissimo mag grimaldello grazie breve storia dell'interno quindi è uno scudo senti prendiamolo non si sa mai non si sa mai ok poi qua limbole sangue del drago vabbè rimandello cura minora prendi secchio allora mouse e w si si com'è com'è a fallout insomma come a fallout in new vegas allora oggetti vestiario cappuccio felicia 6 7 facciamoci tutto leggero per ora vediamo ok il cappuccio non ho messo sì poi libri ok imparato ok ora oggetti armi stack e dove sono i poteri magia distruzione no scintille fiamme recupero recupero mettiamo su preferito durante il gioco prendi Q per aprire il menu preferiti ah ok ah cura perfetto un attimo ragazzi qua distruzione di cubri poteri visore notturna 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 e io io sono pronto ok andiamo c'ho le mani che mi friggono mi prudono e mi friggono qua non c'è un cazzo questo è utile per aumentare un pochino la la cazzo si chiama per aprire un po' e aumentare un po' l'abilità di scassino ma ah ho visto anche una eh vaffan cocca al me Jack che cazzo fai ok cerca nello scheletro oh farina d'ossa e oro thank you bello thank you amico thank you amico amico lo c'è qua cosa c'è qua niente allora com'è che si dice ragazzo questi logore no grazie amico no grazie amico qua lo c'è ah quanto do luttare quanto do luttare e anche ruttare ha un suo fascino e mandiamo uniti andiamo rolof 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 andiamo andiamo amico caro andiamo amico andiamo amico perca putt di attendere l'arrivo del generale non sarò fino ad aspettare che un drago mi uccida dobbiamo ripiegare diamo tempo al generale la magica ma la magica basta la fancocca libertà 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 di essere potente della forza potere limitate arrivo 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 in realtà ha un po' di fuoco e ci avrebbe fatto una bella fiammata però vabbè ce la fa ragazza ce la fai tirati su dai tirati su dai aspetta che ti curo vaffancocca no ho sbagliato no che coglione vabbè aspetta che ti curo pam no è vero cure per me mani curative il potere per curare che testa di cazzo aspetta che ti curo ragazzi si vede che sono un po' impacciato con la tastiera si vede si vede e non si se non si dovesse vedere ok si fa di imperiale oggetti dove cazzo è qua armi oggetti armi come si faceva preferiti qua F ok ah un attimo un attimo amico caro amico ti scrivo un attimo che devo fa qua devo comprare assolutamente la cazzo si chiama il pad devo assolutamente comprare il pad vai va e quindi che facciamo gli altri dovranno trovare un'altra via d'uscita va bene va bene va bene bene ragazzi io purtroppo vi devo lasciare con questo gameplay abbastanza farlocco però continuerò l'avventura di Maximo su Skyrim quindi spero che mi seguiate con questa avventura su Universal Edition speriamo di vederne le belle riscoprire insieme le novità che questa edizione ci ha riservato e noi ci vediamo a una prossima puntata mi raccomando iscrivetevi attivate la campanellina per non perdervi nessun nessuna puntata di questo gioco e di altri gameplay che sto facendo e ci vediamo a una prossima avventura ciao a tutti i fantasmini ciao ciao passa al lato scuro della forza iscrivendoti al canale di JackWhite28